Sono scattati gli arresti per tre extracomunitari che lo scorso 16 settembre 2023 picchiarono due conici di Altavilla Silentina, anche se il fatto si consumò presso un bar situato ad Albanella, la frazione Matinella. L'accusa per i tre nordafricani è quella di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Agropoli sotto la guida del capitano Giuseppe Colella e giungono al termine di indagini sviluppatesi nel corso di questi mesi. L'aggressione che subì la coppia dessò grande shock presso la comunità di Albanella, anche per la sua brutalità. Dalle indagini è emerso che una vera e propria spedizione è stata effettuata per una ritorsione. La coppia infatti aveva denunciato alcuni immigrati per un furto effettuato presso la loro abitazione nel comune di Altavilla. Entrambi i componenti della coppia furono aggrediti brutalmente. In particolar modo l'uomo fu costretto prima al ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e poi al trasporto a Napoli a causa dell'estensione delle ferite. La donna fu invece colpita al petto con meno gravità ma comunque in stato di shock. I malviventi tra l'altro erano anche armati di martelli e mazze da baseball. L'episodio allarmò anche la politica, tanto che il sindaco di Albanella, Renato Iosca, scrisse al prefetto Un fatto di particolare violenza turba profondamente la sensibilità dei cittadini di Albanella, ripropone l'importanza di politiche di controllo del territorio efficaci e rigorose. Le parole del primo cittadino. L'aggressione violenta con mazze da baseball e martello patita da un uomo ed una donna ricoverata e poi con codice rosso in ospedale suscita inquietudine e preoccupazione. Le modalità del fatto e soprattutto il movente devono essere accertati dalla tutela giudiziale con indagini efferrate ed urgenti. Questo è ciò che chiedono tutti i cittadini della nostra comunità. Ma non basta, disse il primo cittadino. È assolutamente necessario prevenire la violenza assicurando la percettibile presenza delle forze dell'ordine. L'azione di prevenzione non può essere episodica e nemmeno simbolica. L'azione di prevenzione deve essere programmata e concordata, ricercando sempre la vigilanza e la partecipazione della cittadinanza. È il dovere di tutti i cittadini rappresentare alle forze dell'ordine situazioni di pericolo e di rischio per l'ordine pubblico, ma è ancora più pressante il dovere delle istituzioni di concepire ed attuare un effettivo controllo del territorio. Qualunque ritardo da parte degli organismi competenti accresce l'allarme della cittadinanza che è in attesa di risposte effettive e non meramente simboliche. La prevenzione del rischio del dilagare della violenza è una sfida primaria ed un dovere assoluto, sottolineò il sindaco. Il comune di Albanella non dispone di adeguate risorse di polizia urbana, ma sta facendo il possibile per colmare questo deficit, anche attraverso azioni concordate con altre amministrazioni comunali. Ora, quantomeno le indagini e la grande e preziosa attività delle forze dell'ordine presenti sul territorio hanno portato dei risultati tangibili, ma è chiaramente l'attenzione nella Piana del Sere, resta comunque alta anche la luce e i ripetuti furti registratesi negli ultimi mesi nell'aria, rispetto ai quali anche questo episodio di violenza è comunque legato.